Sei testimone di un fatto di cronaca? Diventa reporter di strada e mandaci subito una segnalazione. Utilizza WhatsApp e inviaci foto e video al 338 49 68 250 oppure scarica su Google Play l'applicazione ufficiale di Occhio alla Notizia. Reporter di strada, tu insieme a noi. Per un'informazione in tempo reale, iscriviti alla nostra pagina Facebook.